se sta girando bene amici di hd blog non sarò marquez ma ero motociclista un fantastico cbr 600 piegona 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 mamma sei pesante non è vero non scende sono troppo leggero non ce la posso fare allora marquez va molto più veloce di me il ginocchio per terra non riesco a metterla vabbè insomma avete capito che siamo in uno stand action molto action faccio il giro perché se no mi incastro col microfono infatti siamo da nilox siamo da nilox perché presenta due nuove action cam quella più interessante è questa qua che la evo 4k quindi entra in gamma una 4k anche su nilox confezione molto interessante molto ricca perché c'è anche il telecomando dotazione 16 megapixel il sensore 100 metri la profondità come possibile andare con il case e c'è anche un lc di due pollici dietro con 24 accessori disponibili prezzo 399 euro però nilox si butta anche in altri mercati questo secondo me un accessorio interessante svaliggiamo la vetrinetta vediamo se riusciamo ad aprirla ok ce l'abbiamo fatta è una cuffia auricolare stereo bluetooth separata quindi voi dovete infilare uno da una parte uno dall'altra lo potete usare anche per fare le telefonate e c'è la sua basetta vedete qua molto carina dove ci sono degli archetti che consentono di far diventare la cuffia si mette qua dentro anche una cuffia standard quindi senza dover infilare dentro l'orecchio il pistillino e poi c'è la base dove si carica ed è anche una basetta con una batteria una power bank quindi si caricano anche se siete in mobilità altre due cose che nilox porta qui a berlino sono da questa parte forse quella più interessante è il bodyguard bodyguard che è praticamente un orologio ha dentro una sim un gps e consente di essere localizzata sempre soprattutto c'è un pulsantino vedete la sotto a forma di y che è la chiamata di emergenza sono in panico dei problemi schiaccio lì e si attiva la chiamata in viva voce ultima ultimo accessorio smart band ernest impermeabile e anche la possibilità di vedere il chiamante e le notifiche probabilmente sul display 79 euro la la smart band di nilox mentre 169 euro il il bodyguard